Vedano Olona e allarme cinghiali, incursioni a raffica nei campi, danneggiata l'erba destinata ad alimentare il bestiame. I selvatici stanno ormai diventando un incubo per gli agricoltori della zona. Uno di loro, Oliviero Sartori, afferma «fino a un paio d'anni fa i nostri campi erano bellissimi e regolari, come un tavolo da biliardo. Abbiamo dedicato anni di lavoro e di spese per curarli, ora è andato tutto sprecato. I cinghiali sono arrivati nei campi della zona nell'ultimo quinquennio, a ripetizione. Passi la prima incursione, prosegue Sartori, abbiamo ripristinato tutto, ma poi sono tornati ancora e ancora, fino ad arrivare ad oggi e alle devastazioni che sono diventate quotidiane. Ai danni diretti nei campi si aggiungono quelli collaterali, ad esempio la distruzione dei teli di deposito del trinciato. Il nostro latte, prosegue Sartori, è destinato a produrre grana padano e altri formaggi DOP, quindi deve essere di alta qualità. Garantire una corretta alimentazione del bestiame, utilizzando in primis l'erba dei nostri prati, è dunque importantissimo e invece una grande quantità risulta inutilizzabile. In prima linea, anche col diretti Varese, il presidente Fernando Fiori afferma, siamo di fronte a una situazione gravissima che ci impone di mantenere un'allerta continua. Invitiamo con forza le imprese e i cittadini a denunciare ogni incursione subita. Ormai i selvatici invadono orti e giardini in ampie aree del Varesotto.